ragazzi sembrava finita ma non è così, sto per farvi vedere una torta molto particolare ma soprattutto messa in una posizione molto particolare non so se avete visto cose del genere ma io sto per farvela vedere giro la camera quella è la torta su un'altalena aggrappata a quell'albero io non so cosa succederà tra poco con quella torta se partirà qualcosa ma tutti stanno riprendendo quella torta perché è molto particolare vediamo cosa succederà tra poco ecco ecco si muove sta scendendo davanti agli sposi da 25 anni vi ricordo che questo è un venticinquesimo non voglio passare davanti a nessuno scusate molto velocemente mamma, ridi? stiamo apposentando un fotografo si può levare davanti questo andrà domani che meraviglia guarda che meraviglia quella torta possiamo sedere a calma che devi fare con calma prima la torta guarda che meraviglia avevi mai visto una cosa del genere? bellissima solo Enzo e Santino potevano avere questa cosa meravigliosa sta piramide complimenti si sale in alto rappresenta un po' la vita no? certo auguri auguri agli sposi 25 anni scelto no, di età ma di tempo di tempo bacio ragazzi boh no vabbè Enzo non si fanno ste cose non si fanno ste cose in pubblico è la prima volta che mi metto il bacio no vabbè